Bentornati amici! In questo nuovo video su Amazon mi trovo sulla spiaggia di Formia e andremo a scoprire come ritirare un pacco in un Amazon Locker. Allora, siete pronti? Sigla! Iniziamo rapidi! Una volta su Amazon andiamo ad ultimare il nostro ordine. Vado a cliccare su Procedi all'ordine, Procedi al checkout ed invece di utilizzare il nostro indirizzo di casa andiamo a cercare l'Amazon Locker più vicino e più comodo per le nostre esigenze. Per iniziare la ricerca andiamo su Trova un punto di ritiro vicino a te e scegliamo il Locker dalla lista a sinistra oppure dalla mappa a destra. Proseguiamo ultimando il pagamento e attendendo che il pacco arrivi. Possiamo controllare lo stato del nostro ordine sia dai miei ordini sul nostro profilo Amazon oppure attendere che ci arrivi l'email di avvenuta consegna. Prima di continuare ricordiamoci di controllare se abbiamo dato tutti i permessi all'app Amazon, come per esempio l'accesso ai dispositivi nelle vicinanze e consentire l'accesso alla posizione. Ora, una volta aggiunti all'Amazon Locker prescelto, apriamo il link dalle e-mail oppure dai miei ordini e con il GPS e il Bluetooth acceso non dovremo far altro che premere su Apri Sportello. Attendiamo così che l'operazione venga completata e come per magia il nostro scomparto si aprirà e troveremo all'interno il pacco che abbiamo ordinato. Chiudiamo l'Amazon Locker e dopo qualche minuto ci arriverà l'email che ci confermerà che la consegna è stata effettuata. Ed anche per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto ricordati di mettermi un like e se ancora non l'hai fatto è arrivato il momento di iscriverti al canale. Io ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao! Ciao!